A fine campionato, la gente si sta chiamando dai ragazzi, hanno praticato il campionato che si trovano loro e mi hanno riuscito a rilasciare. Ora arriverà anche l'assessore allo sport che sta arrivando qui vicino. Intanto voglio presentare qui Vitali Mauro, che è il presidente dell'Axi, che ha patrocinato la nostra manifestazione già da qualche anno e il nostro collaboratore. Ti passo un attimo per l'occhio, per dire altre parole a questi ragazzi. Grazie a tutti. Sicuramente hai complimenti anche più giovani sportivi, ma io credo che l'onimente è da guardare ai genitori che per tutto l'anno si seguono, li assistono, potete dire loro di partecipare a questa riflessione. Noi in questo caso, in questo caso, è il terzo anno che lavoriamo con questa amministrazione sportiva e credo che continueremo ancora per i prossimi anni. Nella speranza di rivedervi, no, perché crescerete i giocatori, i giocatori giovani sportivi e quindi parteciperanno nelle terze iniziative, ma nella speranza di vedere ancora di nuovi. Quindi complimenti veramente ai giovani sportivi, ma anche ai genitori, che aiutano questi loro figli a partecipare a questi siti del sportivo che hanno fatto molto bene, non solo l'adaptopismo, ma anche l'agentio morale della partecipazione del Vito del Vito del Vito del Vito. Grazie a tutti e buongiorno settimane. Allora, grazie a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi, grazie a Mauro per la participazione, di aver fatto un nuovo da parte nostra. Grazie a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi. Grazie a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi. Grazie a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi. Grazie 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 a tutti i ragazzi.